Mi chiamo Mauro. La tecnologia è sempre stata la mia grande passione. Da bambino mi piaceva smontare e rimontare i motori. In Maserati abbiamo la tecnologia ed assemblaggio più avanzata del mondo. Sembra una danza. Tutti i movimenti sono coordinati. È quasi ipnotico. Un po' come guardare l'auto per strada in mezzo alle curve sulle dure. Il mio nome è Sabina e dipingo. Non con il pennello ma con la chimica e la scienza. Immergendo il telaio ionizzato in una soluzione di particelle di vernice con la carica opposta. Poi i miei colleghi robot spruzzano il colore. Sono Nicoletta e lavoro in qualità al bollino verde. Amo i giochi e profili della Maserati perché sono perfetti. Prima cucivo abiti da sposa, sartoriali. La Maserati mi rispecchia questo. È personalizzata in ogni suo singolo particolare. Io mi chiamo Nunzio Rossignoli. La mia passione è guidare. Quando esco con la vettura divento tutt'uno con lei. Controlliamo 100% delle vetture. Quando noi facciamo la prova delle valvole sport la gente ti sente. Ed è quello che piace al cliente. Sentire la vettura grintosa, il motore che è una tigre. Provare le auto non è il mio lavoro. Dipingere non è il mio lavoro. La tecnologia non è il mio lavoro. La qualità non è il mio lavoro. È quello che sono.